Buongiorno a tutti e bentornati con la nostra rubrica Best Pickup Day. Oggi c'erano davvero molte operazioni, selezionando l'algoritmo Erning Saveless, per diverse strategie. La piattaforma Tradeport, infatti, ha catturato diverse operazioni, sia su Put Credit Spread, sia su Cold Credit Spread e anche su Iron Condor. Più precisamente, io sono andato a sprucciare questi titoli e mi è sentato subito all'occhio Lowiss Company, che compare su tutti e tre gli algoritmi, quindi sia su Cold Credit Spread, su Put e su Iron Condor. La Lowiss Company è una società che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ma detto questo, andiamo subito ad analizzare queste operazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda la Call, ho preso l'unica disponibile, quindi con scadenza del 22 di novembre, Strike 125 e 129, acquistato a copertura. Dopodiché, per la Put, sono andato a prendere quella con la scadenza sempre al 22 di novembre, quindi Sell Strike 104 e Acquisto Strike 100. E infine, per quanto riguarda la Iron Condor, sono andato sempre a prendermi quella con la scadenza al 22 di novembre. Con il lato Put, che presenta gli Strike 103 e 98 e mezzo, e il lato Cold, che presenta gli Strike 126 e 130. Tutto questo, ho subito inserito i valori nel foglio di convenienze statistiche, i valori restituiti dell'Option Matrix. La prima è la Cold, la seconda è la Put e la terza, invece, è la Iron Condor. È facilissimo notare che, oltre alla probabilità media a favore, è molto simile, ma ovviamente la relatività attesa, l'aspettativa statistica e l'aspettativa statistica annualizzata nella Iron Condor sono nettamente superiori. Quindi, per vedere se era effettivamente possibile andare ad inserire come operazione un Iron Condor, ho utilizzato il Price Trajectory Chart, quindi sono andato a vedere al 22 di novembre Il prezzo, con un 90% di probabilità, dovrebbe essere compreso, tenendo conto anche degli earnings, quindi hanno da vedere le bande verdi, tra i 104 e 91 e i 123 e 78, quindi perfettamente allineato con la nostra strategia di Iron Condor. Quindi, la Best Trajectory Day, per oggi, se la giudica l'Iron Condor sul titolo Flow, che a mani basse riesce ad usare sulla Put e sulla Call di Credit Spread. Prima di salutarvi, vi ricordo che è possibile ottenere il nostro calcolatore gratuito di probabilità scrivendoci un'email a info.tradeport.gmail.com e vi invito, come sempre, per rimanere aggiornati sulle opzioni più in generale, di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook e di seguirci qui sul nostro canale YouTube. Spero che il video sia stato di vostro gradimento e vi auguro buon trading.